Il Centro Storico San Giovannese è ancora attivo, vitale, vengono organizzati tanti eventi. Sentiamo qual è il parere direttamente dai cittadini. In linea di massima San Giovanni si può ritenere abbastanza vivibile anche come centro. Certamente in delle città, chiamiamole del nord-est, forse sono più organizzate di noi. Credo che sia ben attivato. Le feste ci sono giuste, via. Diciamo che bisogna sapersi anche accontentare. San Giovanni è ancora un centro attivo, vitale, vengono organizzati eventi, chi ne pensa? No, è morto specialmente per la gioventù. So che stanno facendo tante attività, anche ieri so che c'è stata tantissima gente, quindi penso che si continuino così e è bene per tutti. Tutta la storia di un paese gira qui, no? Allora, si potrebbe sempre fare di più. Il problema è che ora c'è un po' di crisi. La voglia di spendere ce n'è un po' meno. Poi iniziative non è che ce ne sono tante. Voglio dire all'infuori di ieri che l'estava bellissima, meravigliosa, ma bisognerebbe che queste fossero più ripetute. Secondo lei San Giovanni è attivo come comune o no? Io penso di sì. Sì per questo, sì per le feste, sì. Beh, un paese che fa parecchi eventi, almeno da quando... Io abito da poco qua, quasi due anni, però vedo che fanno parecchie cose per le famiglie, magari più per i giovani, magari qualche concerto più per i giovani, se sarebbe possibile.